Conferenza all'Università della Terza Età e del Tempo Libero Magno Aurelio Cassiodoro, oggi si parla di matematica, siamo con il professor Pietro Priperata. Il titolo della conferenza è La matematica dietro le barre, un titolo ad effetto se possiamo dire così. Di che cosa si tratta? Di che cosa si tratta? Noi sappiamo che in tutti i sistemi di trasmissione delle informazioni, dai più elementari ai più sofisticati, si usano le codifiche basate su un numero finito di simboli. Matematicamente diciamo che c'è un insieme di un finito di elementi, che questo insieme finito praticamente è l'alfabeto del codice. Ora, con questo codice, con questo alfabeto si possono formare tante parole, matematicamente diciamo che si formano le ennuple ordinate di elementi dell'insieme. Quindi i codici poi naturalmente in base all'alfabeto possono variare, quindi possono essere codici binari, codici decimali, codici alfanumerici, dipende dall'appunto degli elementi dell'insieme. Poi le quelle che più si usano di solito sono il codice binario. In che cosa consiste? Consiste in una serie, o meglio diciamo che siccome quando abbiamo elementi di commercio, lo so, qualsiasi cosa, dalla pasta a tutto il resto, noi vediamo che c'è un codice. Bene, questo codice ha due caratteristiche, cioè è formato da una serie di cifre decimali, numeri in generale, punti decimali, poi da una serie di barre nere intervallati da spazi bianche di diverso spessore. E che ai nostri occhi appaiono bianco e nere. Non so per bianco e nero, non lo so, per me... Possiamo dire che praticamente oggi si parla della matematica sotto un altro aspetto, sotto non l'aspetto classico che magari tutti conoscono come quella che si studia a scuola, ma l'aspetto che noi incontriamo nella vita quotidiana di tutti i giorni, in ogni cosa che facciamo, in ogni acquisto che andiamo a fare. Esatto, la domanda è pertinente, infatti noi già in altre occasioni abbiamo parlato della matematica non scolastica, tipo il pallone da calcio, la bicicletta, l'attacchia a spillo, e stasera appunto parliamo di queste cose, perché appunto la matematica serve per non solo appunto per fare gli esercizi in classe, ma appunto per capire anche ciò che ci sta attorno. E quindi io brevemente vorrei dire che la matematica è praticamente una serva padrona, cioè serva a tutti, però è la padrona a lei.